allora stasera parliamo stasera parliamo di maschia ecco ecco già un argomento che mi piace molto abbiamo uno due tre quattro articoli ce la facciamo molto bene ok spegniamo i microfoni accendiamo orecchie cuore la prima domanda il primo articolo è avremo la libera scelta quando verrà maschia la domanda ha molto senso perciò prima di spiegare di rispondere la domanda cerchiamo di capire la domanda perché un diceva che che c'entra maschia con invece al suo senso perché uno pensa che quando arriverà maschia allora noi non saremo più padroni di scegliere di fare di pensare saremo sottomessi diciamo così dal messia faremo sotto quello che vuole lui è quello che vuole dio eccetera eccetera allora non avrò più la libertà di scegliere perciò la domanda ha molto senso avremo libera scelta quando verrà maschia ok in base a ciò che ho letto sempre fa parte della domanda mi sembra che ci comporteremo bene automaticamente senza alcune decisioni da prendere la vita non sarà noiosa ma ci abbiamo diverse domande se c'è se continua a esserci libera arbitrio se noi ci comporteremo bene automaticamente e se tutto ciò non è noioso ok risposta mi piace questa domanda quando il maschia verrà non ci saranno i numerosi strati di confusione che rendono la vita così difficile le priorità cambieranno allora oggi nel mondo che viviamo adesso il bene e il male il bene non è noi siamo un po confusi tra quello che è bene e quello che è male questo mondo dove regna per ora il buio diciamo il buio copre la verità il buio copre i veri valori della vita i valori giusti della vita e molte volte sembra proprio al contrario che le cose giuste siano sbagliate o di poco conto o secondarie mentre molte volte danno tanta importanza le cose secondarie futili o addirittura sbagliate questo è quello che noi viviamo durante il galut galut è la diaspora ma la diaspora che noi diciamo non è soltanto una diaspora geografica fisica a viviamo fuori di israele allora siamo in diaspora no anche in israele si è in diaspora in galut perciò quello che il momento che stiamo vivendo ora è quella oserei dire povertà di anima e povertà di anima povertà di conoscenza povertà di comprendonio povertà di spiritualità di verità di tutto di tutte le cose giuste adesso siamo in fase un po di povertà perciò dice qua quando verrà masché non ci saranno più tutte queste varie cose che ci confondono le idee questi vari ismi i vari ismi che ci sono tutte le varie idee strambe che ci sono il mondo con tutti i vari gli ezzerarà che ci spostano dalla strada giusta tutte queste cose quando arriverà maschia spariranno con gli scritto verrua a tu ma a tu ma a verminare tutte le cose impure tutte le cose false spariranno dalla terra mi piace ok le priorità cambieranno le priorità cambieranno perciò noi fate attenzione a questo passaggio noi umani oggi abbiamo determinate priorità diamo priorità allo svago al divertimento ai soldi o che ne so ognuno ha le sue priorità e molte volte appunto lasciamo in seconda o in terza scelta la priorità della nostra anima e così via perciò quando arriverà maschia sono le priorità le nostre priorità che cambieranno infatti perché questo percepiremo l'importanza e la bellezza della torale il nostro modo di vedere cambia ma non perché qualcuno ce lo impone attenzione non è che maschia viene ci impone determinate cose no dio non ha mai imposto niente figuriamoci un umano si può imporre qualcosa ad altri umani di non è posto niente dio ci dà la torà ci dice le leggi ma anche ce li impone libro abito che cos'è io ti do le leggi e vedi tu voglio che tu desidero che tu le faccia ma non ti posso obbligare neanche ma nessuno al mondo potrà obbligare nessuno a fare le mitzvot ma neanche maschia il punto è che saremo noi che percepiremo l'importanza la bellezza della torale delle mitzvot essere generosi con gli altri per esempio sarà spontaneo e naturale la saggezza divina risplenderà in ogni aspetto del mondo in ogni aspetto del mondo noi potremmo vedere la saggezza di dio oggi magari non lo vediamo non perché manca perché i nostri occhi non vedono siamo noi che vediamo il mondo in modo diverso e non percepiamo che dietro a ogni cosa c'è la volontà divina cioè il mondo in realtà non cambia è il modo di vedere la percezione che cambia i il fatto che dio si rivelerà come vedremo fra poco allora farà sì che tutte queste cose noi riusciremo a vedere perché è la rivelazione che cambierà come disse il profeta isaia 11 9 il mondo intero sarà pieno della conoscenza di dio come le acque coprono l'oceano cosa vuol dire quanto quanta acqua copre l'oceano c'è più acqua nel mondo se non sbaglio non che terra allora quando quando avverrà massia il mondo sarà pieno della conoscenza di dio oggi la conoscenza di dio è minima per quanto noi fatichiamo a studiare a studiare a capire eccetera è minimo di quello che possiamo venire a capire di dio perché è tutto ancora celato dio ancora celato invece quando arriverà massia ci sarà cotanta rivelazione di dio dio toglie i suoi veli e appunto si rivela si svela perciò sì che cominceremo a capire un pochettino meglio capire la scena in vedere c'è un capire c'è cioè ciò che oggi è molto molto limitato nonostante abbiamo vastità di torai immensa ma quando arrivano massia tutto questo non avrà più veli e tutto sarà rivelato appunto come l'acqua dell'oceano visto che la verità sta creando pian piano questo discorso no adesso dice visto che la verità sarà totalmente totalmente ovvia perciò la verità divina sarà tutta svelata e rivelata agli occhi di tutti non soltanto occhi di grandezza di chi allora chi potrà fare qualcosa di male perciò di nuovo nessuno ti impone di fare solo del bene ma il punto è chi riuscirà chi avrà voglia chi avrà desiderio chi andrà a pensare di fare qualcosa di male quando vede queste rivelazioni divine a nessuno interesserà più cioè è la nostra ripeto è la nostra percezione che cambia il nostro modo di vedere che cambia tuttavia nel corso della vita non ci troviamo a scegliere solo tra bene e il male c'è un altro tipo di libero arbitrio che si potrà esercitare anche quando verrà Mashiach ovvero la scelta tra il bene e il meglio perciò la divina libero arbitrio è tra bene e il male ma anche la scelta di tra bene e meglio questo magari nessuno ci ha mai pensato no come possiamo libero abito è scegliere tra bene e male invece no c'è anche la scelta posso fare bene o posso fare meglio più di bene oggi la domanda che ci si pone è spesso se fare fare o no una determinata buona azione quando invece verrà Mashiach la domanda sarà fino a che punto faremo quella mitzvah che faremo la mitzvah sicuramente sì tutti faremo le mitzvot ma il punto è ci spingeremo al massimo o ci accontenteremo di uno sforzo minimo questa sarà la scelta che noi avremo l'imbaratto della scelta perciò non è come oggi faccio o non faccio oggi in combe o la Mashiach la bugia la falsità gli eterara e la confusione allora oggi è faccio o non faccio quando arriva la Mashiach tutte le confusioni vengono cancellate la domanda è faccio con 10% di me o con 100% di me ci spingeremo al massimo o ci accontenteremo dello sforzo minimo sto rendendo l'idea oggi è un po' come quando si dice studiare 100 volte o studiare 101 101 è molto di più si fa la differenza oggi scegliamo se usare i nostri talenti per cose buone o per cose negative quando arriverà Mashiach sceglieremo se sviluppare quei talenti anche di più oppure se li lasciamo a livello in cui è già già si trovano cioè la domanda è che faremo soltanto divinità che faremo le Mitzvot è scontato il punto è quanto applicheremo di noi stessi per Dio 10, 50, 70, 90, 100% è questa la domanda ma di nuovo uno può dire allora se è così allora io sarò obbligato a fare le Mitzvot ripeto nessuno verrà a obbligarci a fare qualcosa semplicemente saremo noi che avremo una visione diversa del mondo e quando tu vedi la verità non vuoi fare altro che seguire quella verità perciò anche oggi quelli che sono più scettici quelli che non credono in Dio quello che tutti i vari che non riconoscono Dio non vogliono fare Mitzvot un progetto per l'altra quando arriva la Mashiach gli occhi si aprono vedranno tutto in un modo diverso perciò loro di propria spontanea volontà andranno dai maestri a chiedere aiutatemi come si fa questo come si fa quest'altro spiegami questo oggi magari una persona che quando vede un rabbino gira l'angolo per non farsi vedere ipotesi o se passa davanti a un tempio si allontana loro saranno i primi o comunque faranno parte di quelli che andranno a chiedere informazioni perché saranno attratti vedranno finalmente la verità e vorranno farlo qualcuno dice dai fra poco Mashiach arriva il lavoro dei rabbini finisce lo contrario quando arriva la Mashiach tutto comincia perché c'è una miri oggi andiamo a cercare uno per uno finché troviamo quando arriva la Mashiach tutti da Valanga verranno a chiederci come fare allora lì sì che sarà però avevo bisogno di arruolare nuove reclute che ci aiutino a insegnare cosa sto facendo cosa ho fatto ah ecco no ho toccato troppo che ci aiuteranno a rispondere infatti come disse il suorcio di Mosè a Mosè non puoi da solo insegnare tutto il popolo giudicare il popolo hai bisogno di altre persone che ti aiutino così deve essere perciò mi fermo un attimo qui di leggere visto che ci sarà questo cambiamento c'è scritto che è interessante quando verrà Mashiach avremo nostalgia di questi giorni di oggi come possibile se abbiamo spiegato che la nostra visione cambia perché mai dobbiamo avere nostalgia di oggi oggi è il mondo della falsità è tutto occulto allora perché la spiegazione è la seguente quando verrà Mashiach tutti faremo teshuva tutti perché appunto vedremo divinità senza filtri però lo svantaggio che cos'è che quando arriverà Mashiach sarà così automatico palese fare teshuva che avrà un pizzico meno di valore perché è grazie davanti a una cosa ovvia non puoi fare altro oggi invece che siamo ancora brancolando nel buio spirituale che non si vede tutto quello che vedremo oggi una persona che fa teshuva il vero valore è fare teshuva oggi perché perché non vedi ancora tutta la verità è una cosa che capisci una cosa che senti una cosa che sai che è giusta eccetera eccetera ma non hai la certezza di quando sarà il futuro perciò cos'è il punto che avremo nostalgia di oggi avremo nostalgia e diremo peccato che non ho fatto teshuva nel 2023 perché nel 2023 è un giorno domani verrà Mashiach e diremo peccato che ieri non ho fatto teshuva perché oggi così è automatico che vedrò la divinità allora sì ha il suo valore ma quanto valore veramente ha sto rendendo l'idea allora chi ascolta oggi in diretta o in futuro nei prossimi giorni su youtube facciamo teshuva subito vale la pena ma teshuva vuol dire anche di una cosa eh ciabatti filini quello che sia di cominciare di qualcosa a far teshuva in modo di dire ho cominciato e poi vado sempre avanti passo per passo ok torniamo al testo il rabbino continua a dire penso che questa risposta che questo risponda alla tua seconda domanda cosa era la seconda domanda mi sembra di comportarsi dell'automatismo che ci comporteremo bene in modo automatico penso che questo risponde alla tua seconda domanda hai ragione gli ostacoli ci stimolano ci danno una spinta per vivere durante durante l'era messianica quel impeto ci sarà seppure in forma diversa perciò la sfida oggi abbiamo la sfida di far la cosa giusta in futuro non c'è la sfida in futuro ci sono tanto le cose giuste però questo impeto questo desiderio anche nell'era messianica ci sarà ma in forma diversa e dice qua e qua avrò bisogno un po' del vostro aiuto specialmente di Vittorio ascolta bene Vittorio tutti quanti pensa a un aereo e a un razzo entrambi necessitano di una forma di resistenza per volare nell'aereo la resistenza viene dall'interazione con un fattore esterno ovvero i vari livelli di pressione dell'aria dell'aria su entrambi i lati delle ali eppure sopra a una certa altitudine questo non è più possibile ed è necessario creare la propria resistenza che spinge verso il basso e questo è il razzo ti trovi? ci puoi spiegare? sì sì per via della forma che hanno le ali leggermente ricurva si crea una differenza di pressione quando l'aereo va per cui c'è meno pressione sopra più pressione sotto per cui tiene in sospeso l'aereo mentre vola no? quando tu dici sopra e sotto intendi sopra all'ala sotto all'ala e sotto all'ala? sì sì per cui diciamo questa differenza di pressione compensa il peso di tonnellate che ha l'aereo sul razzo invece c'è un principio di combustione interna del motore con ossigeno liquido e altre cose per cui è un principio come appena detto tu diverso ma alla fine il funzionamento il risultato è lo stesso allora ripetiamo tutto il concetto e vogliamo capirlo come lo connette con l'ebraismo allora pensa a un aereo e a un razzo no? entrambi necessitano di una forma di resistenza per volare cosa direi resistenza? accendi accendi sei spento qualcosa che si oppone al movimento quindi la resistenza è nel caso dell'aereo è l'aria che si oppone è anche la gravità nel razzo fuori dell'atmosfera diciamo la spinta deve compensare il peso del razzo allora pensa a un razzo a un aereo entrambi necessitano di una forma di resistenza per volare nell'aereo la resistenza viene dall'interazione con un fattore esterno ovvero i vari livelli di pressione dell'aria sono entrambi i lati e delle ali esatto eppure sopra una certa altitudine questo non è più possibile ed è necessario creare la propria resistenza che spinge verso il basso perciò l'aereo se va troppo in alto non c'è più questa resistenza è questo che dice esatto esatto l'aereo può volare soltanto fino a certa altezza esatto l'aereo utilizza questa resistenza che in fisica si chiama portanza cioè ovvero l'aria ha una resistenza questo questo fenomeno l'aveva scoperto già Leonardo da Vinci e diceva che una palla di cannone e una piuma se cascavano dentro un vuoto assoluto cioè vuoto senza aria cascavano nella stessa velocità perché la palla di cannone casca prima della piuma perché il peso della palla di cannone eh com'è che si può dire vince la resistenza dell'aria mentre la piuma ha la portanza quella dell'aereo la piuma sfrutta la portanza dell'aria mentre la palla di cannone casca giù perché è pesante ok mentre il razzo deve come dice questo questo dato qui questo questo attrattato cosa fa utilizza la forza del motore per creare una resistenza anche nel vuoto perché poi il razzo va all'esterno dell'atmosfera e quindi lì non c'è più una portanza una resistenza c'è vuoto e quindi questo vuoto va sopperito con la potenza del motore un po' in pratica cosa vuol dire questo che quando arriviamo scia i giochi sono fatti no eppure sopra una certa altitudine questo non è più possibile è necessario creare la propria resistenza che spinge verso il basso questo è il che spinge verso il basso e questo sono i motori dei razzi che praticamente come come è che funzionano hanno una strozzatura in questa strozzatura viene spinto dentro l'idrogeno in grande pressione che infiammando crea questa resistenza adesso andiamo avanti per capire meglio grazie grazie a tutti oggi la nostra lotta ha fatto un esempio che magari in pochi capiscono e adesso lo spiega oggi la nostra lotta è tra il bene e il male quando il me il male che lavora contro di noi prendiamo le decisioni giuste e ci spingiamo avanti quando arriverà Mashiach perciò oggi il male che cos'è è rappresentato alla pressione alla resistenza che c'è fuori giusto? ok perciò quando arriverà Mashiach lasceremo questa atmosfera faccio non c'è più il come si chiama la? come l'hai chiamato? la resistenza dell'aria resistenza resistenza ok grazie faccio quando arriverà Mashiach non c'è più lasceremo questa atmosfera il male diventerà una cosa ordinaria avremo bisogno dei nostri razzi della sfida del bene contro il meglio e useremo il libero arbitrio per decidere quanto in alto vogliamo alzarci come dice il Talmud trattato di Berahot 64a i Tzadikim non hanno riposo né in questo mondo né nell'altro perché sono in continua salita no? allora non c'è più riposo nelle parole del profeta essi vanno dall'alto in alto e in alto ancora sempre di più dall'alto verso l'alto maggiore ok interessante vogliamo qualcuno vuol dire qualcosa su questo? non c'è sarà più lo Yetzirah vero Rav? non ci sarà più Yetzirah no Yetzirah è stato sconfitto ormai tutto quello che è impuro non ci sarà più perché oggi stiamo allora tutto quello che oggi noi stiamo combattendo perciò Yetzirah le forme del male eccetera quando Mashiach è arrivato vuol dire che abbiamo finito la battaglia e poi godremo della vittoria di questa battaglia che tutto il male è stato cancellato Dio toglierà tutto il male Vittorio hai visto chi c'è qua con noi? vai a venire giù c'è Yuda Yuda come stai? siamo a c'è grazie di essere qua con noi ma Rav tutto quello che abbiamo detto fino adesso varrà solo per gli ebrei o anche per i bohimi per tutti? bella domanda bella domanda io direi che vale per tutti perché quando Dio arriva non è che toglie i suoi veli per gli ebrei e li mette per i bohimi quando Dio arriva Dio toglie i suoi veli per tutti sicuramente sì posso raccontare di un esperimento per vedere la portanza questa resistenza dell'aria si prende un foglio di carta a quattro di quelli normali e si fa una specie di cilindro una specie di tubo perché con un po' di scotch si chiudono i due lembi in fondo quindi viene fuori una specie di occhiello dentro si passa una matita e poi si soffia sulla matita e si vede che il foglio di carta si solleva questa è la portanza e perché gli aerei sopra 11.000 12.000 13.000 non piedi 11 12 13 chilometri non possono andare perché l'aria diventa rarefatta e quindi non ha più questa resistenza e quindi lì un aereo va in stallo e cade wow david nasconditi come vuole ti ha ti ha superato alla grande ma no abbiamo volato tutti e due sia mio marito che io in mezzi diversi ok ok va bene grazie grazie mille molto chiara ok se nessun altro ha qualcosa da aggiungere o chiedere andiamo avanti con il secondo articolo il secondo articolo che dice che significato ha l'anno 6.000 domanda un rabbino mi ha insegnato che l'anno 6.000 nel calendario ebraico sarà l'ultimo anno ossia quello che segnerà l'arrivo del Mashiach e l'inizio della redenzione finale ho però l'impressione che non sia possibile sapere quando sarà l'ultimo anno dell'esilio perciò com'è possibile predirlo perciò da una parte noi non sappiamo quando viene Mashiach non c'è scritto da nessuna parte d'altra parte qua gli dicono che nell'anno 6.000 ci sarà la redenzione allora c'è o non c'è una data risposta è scritto nel Talmud che il mondo che noi conosciamo durerà per 6.000 anni e che nel settimo millennio si inaugurerà l'era messianica ovvero lo Shabbat cosmico Shabbat del mondo per 6 giorni della settimana noi lavoriamo e durante lo Shabbat riposiamo e godiamo dei frutti del nostro lavoro dei 6 giorni lo stesso si applica anche ai millenni cioè 6 millenni è un ciclo e poi arriva il Shabbat nei millenni tuttavia è sicuramente possibile che il Mashiach venga primo non è che per forza deve arrivare soltanto alla fine del sesto millennio al Shabbat dei millenni no? può arrivare anche oggi e come da tradizione crediamo speriamo e preghiamo ogni giorno che questo sia il giorno del suo arrivo nella preghiera di ogni giorno nella Amidà che diciamo tre volte al giorno diverse preghiere sono benedizioni che auspichiamo che Mashiach arrivi questa che arrivi oggi pardon non che arrivi che arrivi sicuramente è scritto in la Torah che arrivi oggi che arrivi adesso subito fallo venire e così via questa è un'altra analogia col Shabbat che abbiamo il diritto di anticipare il minedì pomeriggio stiamo dicendo sta facendo qua un parallelo un paragone tra l'avvenuta di Mashiach e il settimo millennio il settimo il settimo giorno tra Shabbat e l'avvenuta di Mashiach Shabbat è il settimo giorno e l'avvenuta di Mashiach è la fine dei 6.000 anni adesso qua dice così come Shabbat noi lo anticipiamo venerdì sera noi non cominciamo il Shabbat quando è il tramonto del giorno noi anticipiamo 18 minuti prima le signore accendono candele dipende 18 o 30 dipende dalle usanze minuti prima perciò così come tu puoi anticipare l'entrata dello Shabbat noi possiamo anche anticipare l'avvenuta di Mashiach ma non è che per forza dobbiamo aspettare il sesto millennio quindi sì non sappiamo esattamente quando arriverà il Mashiach ma sappiamo che sarà prima dell'anno 6.000 al momento siamo nell'anno 5.784 vuol dire che siamo ah c'è un due modi da Muzvega che vengono Mashiach una è una data che Dio ha prefissato che nessuno di noi sa che non c'è scritto da nessuna parte Dio ha detto quella data verrà Mashiach quella data lì non può essere dopo l'anno 6.000 entro 6.000 sicuramente il più tardi che sia il più tardi è entro l'anno 6.000 però quella data lì che noi non conosciamo può essere oggi domani o mai sia l'anno 6.000 però c'è un altro punto mettiamo conto no che Dio ha deciso che Mashiach arriva l'anno 6.000 proprio l'ultimo giorno possibile c'è un modo che noi possiamo anticipare questa data che Dio ha scelto se siamo meritevoli perciò se il popolo ebraico si comporta in modo meritevole e facciamo tutto quello che sa da fare le mitzvot la Torah eccetera noi possiamo anticipare quella data vuol dire quando Dio vede che noi abbiamo operato quello che c'era da operare il Yetzirah è stato cancellato e ci comportiamo bene facciamo mitzvot eccetera eccetera allora Dio dice beh perché aspettare fino a quella data vedo che il mondo è pronto anticipiamo la data questo anche è possibile al contrario non è possibile che venga più tardi uno dice vabbè mettiamo conto che tutto il mondo ci comportiamo male ebrei non ebrei tutti ci comportiamo in modo brutto allora se è giusto anticiparlo sarà giusto anche posticiparlo no? se dipende dalle nostre azioni uno dice o lo anticipiamo o lo posticipiamo no posticipare non può essere non potrà mai essere dopo il 6000 stiamo soltanto anticiparlo perché le cose buone si possono quello che è bene si può migliorare ma non si può peggiorare non può arrivare per castigo ah per castigo non ve lo mando neanche non esiste non esiste una cosa che è scritta nella Torah non può cambiare una profezia specialmente positiva interessante grazie è una bella notizia questa veramente interessante notare che una il Rambam dice se non sbaglio il Re Maimonide spiega così quando nella Torah c'è una profezia scritta una profezia scritta questa profezia se è una profezia maligna di male perciò un decreto maligno distruzione qualcosissima cosa sia anche se è una profezia può essere cambiata cos'è una profezia? che un profeta dice qualcosa in nome di Dio non è che se l'ha inventato una profezia negativa può essere cancellata metti conto si fa teshuvab le azioni o quello che vuoi Dio dice cancello quel decreto lì ma l'abbiamo visto mille volte in Hanukkah Purim tutti i decreti di morte cancellati perciò un decreto di male si può cancellare ma un decreto di bene di positività cascasse il mondo non si può cambiare anche ripeto se tutto il mondo va alla deriva un decreto positivo non si cambia una profezia perciò Mashiach è una cosa scritta in diversi posti della Torah perciò non potrà mai essere che non verrà non esiste la questione è quando già stiamo aspettando diceva Laura cosa che cosa che mi ha fatto piacere no ho detto è bellissimo questa cosa veramente però mi vado a pensare una cosa no questa qui che diceva che non che non esiste che non venga che non esiste che non venga sì però mi fa pensare una cosa che una cosa che non ho mai capito il Rebbe ha sempre detto che questa è l'ultima generazione del Galut e la prima della Gheulà ma ascolti Ravmichi ma allora nella rigenerazione del Galut c'erano anche i miei nonni quello che voglio dire ma i miei nonni non ci sono già più ci sono già i pronipoti quindi ormai la generazione è andata avanti è quello che non capisco cioè nel senso ve l'ha sempre detto in tutto il suo in tutto nel periodo che lui è stato diciamo in carica no come Rebbe poi però è venuto a mancare ma le generazioni sono andate avanti sono già nati i nipoti sono già nati i pronipoti dei nostri nonni che erano della generazione del Rebbe attenzione quando il Rebbe l'ha detto quanti anni fa era 30 neanche lui è mancato 30 anni fa da chi stare lui lui diciamo 30 anni fa l'ha detto mal contati no il bambino che è nato quel giorno lì oggi ha 30 anni questa è la generazione pensi che Davide ha fatto il PD on il giorno che è mancato il Rebbe ecco Davide ha 30 anni vuol dire 29 ecco brava allora 29 questa è la generazione ok siamo nella generazione grazie no grazie a lei perché ha chiarito un punto ha fatto una domanda molto giusta ok andiamo avanti a vedere lei menzionerebbe sono che lui menzionerebbe vorrei aggiungere che l'attesa dell'arrivo di Mashiach in qualsiasi momento si è intensificato negli ultimi anni in particolar modo alla luce della dichiarazione del Rebbe che l'arrivo del Mashiach è imminente sicuramente aumentando le buone azioni affrettiamo il suo arrivo interessante quando il Rebbe l'ha detto una trentina di anni fa che questa è la generazione che questo è il momento eccetera eccetera poi tutti i grandi i vari caballisti i vari grandi rabbini di nonno cabà del mondo pian piano tutti hanno detto la stessa cosa questa è la generazione dobbiamo darci dentro dobbiamo fare sciuva dobbiamo imparare dobbiamo migliorare eccetera perché ormai non troverai uno dei grandi che non sia d'accordo che siamo lì che Mashiach sta per arrivare domande obiezioni io volevo soltanto chiedere una cosa a proposito di quella della domanda che ha fatto Vittorio quando ha detto se quando il Mashiach arriverà arriverà anche per Igoim e ha detto sì io allora chiedo se nel Tania se non sbaglio c'è scritto che Igoim non hanno l'anima divina il giorno in cui arriverà Mashiach a Igoim che cosa gliene può importare di Mashiach se loro non hanno neanche l'anima divina cioè se Dio non ha dato a loro l'anima divina e quindi l'anima divina è quella che ti permette di connetterti e di ricercare sempre no Dio cioè in che modo loro potranno diranno ma chi se ne importa non ci credo no perché capisco la domanda penso di capire la domanda ma tutti sono tutti siamo figli di Dio e tutte le creature vogliono tornare alla propria origine alla propria c'è scritto che un bambino vuole sempre tornare perché il bambino è più attaccato è sempre attaccato ai genitori perché sono la sua fonte specialmente alla madre no specialmente perché il bambino è uscito da sua madre e vuole sempre come ritornare perciò ogni cosa tende a tornare alla propria fonte perché il fuoco come nel video che ho fatto l'altro giorno no perché se tu accendi un fiammifero comunque il fuoco sale su perché l'origine del fuoco è in cielo perché l'acqua cade sempre in giù perché l'origine si chiama origine la sorgente così c'è l'origine sorgente dell'acqua è in basso perciò l'acqua tende verso il basso perciò ogni cosa tende sempre a tornare alla sua origine adesso tutti siamo figli di Dio hai l'anima divina o non hai l'anima divina è tuo padre perciò quando tuo padre si rivela tu sei attratto sei attratto da lui però è un padre che ha fatto le differenze in questo senso perché ha dato ad alcuni l'anima divina e ad altri no perché ognuno ha un compito diverso nel mondo tutto farlo capire ai non ebrei che sono la maggior parte del mondo perché gli ebrei sono pochissimi hanno altre responsabilità hanno altri utensili no certo ma non credo che sarà un'impresa così facile beh saranno fare i suoi non è problemi questo è che tarda a venire no mi incuriosisce questa cosa è una cosa tecnica questa che non fa veramente nessuna differenza al lato pratico cosa sarà come un gentile vedrà Dio cosa è tecnica che boh saranno problemi loro dei grandi non è un problema non lo so comunque Mashiach arriva per tutti e tutti i nostri occhi si apriranno e tutti vedremo divinità non so esattamente poi le anime cosa sarà poi non lo so forse a quel momento tutti avremo un'anima divina non lo so non lo so non lo so neanche io ok il terzo articolo è una cosa se è possibile oh finalmente Samuele dai non mi dare non mi dare ragione pudecchiami dai è un mese che non mi fai sudare ma lo so perché stavi male allora stavo ok abbiamo detto che Mashiach non può essere posticipato ciò vuol dire che prima del 6.000 la terra sarà in pace tutto sarà a posto perché giusto giusto quindi noi possiamo stare tranquilli che fra 240 anni al massimo tutto sarà a posto perché lui deve venire fuori più tardi giusto giusto mal 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 che va noi lo spieghiamo lo spieghiamo prima perché da quando la terra ad oggi non c'è mai pace quindi non si sa se se dovesse cioè non c'è nessuna possibilità possibilità che dal 6.000 ci sia anche un problema no assolutamente anzi anzi a sentire la parola darebbe in questa generazione in questi anni va bene amen grazie ok l'era della risurrezione dei morti si intende e è la ricompensa allora no ripeto l'era della risurrezione è la ricompensa finale perché noi sappiamo che quando ci sarà anche la risurrezione dei morti allora questa persona chiede questa è la ricompensa finale la risurrezione dei morti interessante domanda c'è una differenza d'opinione fondamentale tra i due maggiori saggi medievali rabbino she ben maimon perciò il rambam il maimonide e rabbino she ben nahman il nahmanide il ramban c'è una differenza di opinione tra loro due riguardo la durata dell'era messianica e spiega il maimonide sostiene che la ricompensa finale per le nostre azioni sarà nel Gan Eden nel giardino dell'Eden quello che viene chiamato il paradiso spirituale che verrà vissuto solo dalle anime attenzione secondo lui il corpo fisico il corpo fisico è limitato è un impedimento per la forza dell'anima a vivere delizie spirituali inimmaginabili secondo lui l'anima quando si stacca dal corpo dopo la morte lì l'anima può avere delle delizie spirituali che col corpo non può avere perché il corpo lo blocca lo limita pertanto l'era della resurrezione sarà temporanea nessuno dice che non ci sarà la risoluzione tutti dicono di sì ma secondo il rambam questa era in questo momento sarà temporanea e alla fine tutti coloro che sono stati creati dalla polvere torneranno ad essere polvere e tutte le anime torneranno da alganeden dove rimarranno per eternità perciò secondo il rambam c'è il momento che arriva maschia poi a un certo punto le anime i corpi risuscitano però poi di nuovo alla polvere torneranno e poi si va nel ganeden questa è la sua opinione tra parentesi qua scrive nonostante esso non sia la ricompensa finale la la risurrezione è comunque necessaria e maimonide stesso include la fede nella risurrezione nei suoi tredici progetti di fede perciò nessuno viene a dire che non ci sarà la risurrezione anche il maimonide che dice che ci sarà una risurrezione temporanea e poi tutti comunque torneremo alla terra lui nelle sue tredici principi di fede scrive uno dei principi di fede è della risurrezione che crediamo nella nessuno lo esclude però per lui questo momento è un momento temporaneo ok apparentemente ciò è perché il corpo e l'anima sono soci in tutte le buone azioni che hanno compiuto e pertanto devono essere entrambi ricompensati adeguatamente questo è il pensiero del Rambam andiamo a vedere il lachmanide cosa dice il lachmanide è in forte disaccordo con l'opinione del Rambam armato di varie fonti talmudiche egli afferma che nonostante l'intensità del piacere elevato che esso offre alle anime che ospita il lachmanide è un posto temporaneo per le anime fino all'arrivo della loro ricompensa finale cioè l'era messianica perciò uno dice che quella è la meta finale il Rambam l'altro dice no non è una meta finale dice che è un posto temporaneo per le anime fino all'arrivo della comprensa finale perciò chi magari è già morto e adesso si trova nel Gan Eden nel paradiso allora quando arriva la Mashiach finisce il suo parcheggio nel Gan Eden e torna nel mondo fisico è questo che dice il secondo maestro perciò chi è già mancato chi si trova già nel Gan Eden non è che rimanga lì non è la la fermata finale in quell'epoca di Mashiach tutte le anime saranno riunite con i loro corpi e non ne saranno mai più separate perciò il corpo chi è già morto la sua anima ritorna nel suo corpo in eterno non saranno mai più separate dai domanda veloci domanda quindi se io sono la ricarnazione ma il corpo sarà il medesimo che avremo in questa vita o il corpo sì ma la domanda è un'altra dai ma l'uno sono i contrari dell'altro insomma ma quello sì ma su questo punto delle anime che sono nei corpi quella è una domanda che subito dovrebbe urlarvi no ma se le anime poi quando ritornano vengono divise in mille parti come fanno a tornare in quale corpo cioè perché sono divisi in mille parti eh perché quando quando si rincarna ha già oh bravo vedi quando vuoi puoi anche aiutare e questa è la domanda la domanda è se l'anima che noi abbiamo abbiamo sempre detto che le nostre anime sono tra virgolette riciclate anima di un'anima allora quando mi viene a dire che l'anima torna il corpo quale anima in quale corpo alt ovvio bellissima domanda la risposta è semplicissima che un'anima si scinde l'anima non è un corpo l'anima si può scendere in mille corpi perciò l'anima che è stata nel mio nel corpo ogni corpo che ha avuto la mia anima di oggi per esempio l'anima principale l'anima madre si scinde un pezzo a me un pezzo all'altro un pezzo all'altro eccetera eccetera l'anima non ha difficoltà a scendersi perciò questa è la risposta che se un'anima può entrare in mille corpi o chissà forse di più non so adesso posso fare una domanda non ho capito mi sono perso qualcosa l'anima madre no era il mio modo di dirlo ah perché ho detto se no c'è un'anima madre e da lì poi ci sono le varie no quella l'anima madre di io ah ecco io sto parlando l'anima madre di ognuno di noi ognuno di noi è la nostra anima è rincarnata il nostro corpo è sì 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 pardon l'anima rientra nel corpo allora la domanda è l'anima se è già stata in cento o in mille corpi in quale corpo lo susciterà come sciacca certo l'anima madre quello che mi sono permesso di dire l'anima madre ok si scenderà in tutti i corpi e si riunisce c'è anche un altro problema trovo intanto avevamo detto che i corpi non tornano ma saranno saranno corpi di luce non saranno corpi no no dove c'è scritto questo no no è stato detto che non saranno corpi effettivi corpi non mi ha di possa eh quindi a parte questo già siamo in 7 miliardi non ci stiamo qui saremo in 15 miliardi lo rimettiamo guarda in in Australia c'è così tanto spazio e come si chiama c'è oh mandiamo tutti i palestinesi in Australia no cancella Edoardo cancella questa frase Edoardo cancella è una battuta è una battuta è una battuta c'è posto per tutti Dio non si preoccupa non ti preoccupare Dio Dio sa quello che fa va bene i maestri caballisti e chassidici sono d'accordo con l'opinione che Nachmani del secondo maestro i maestri caballistici e chassidici sono tutti d'accordo con la seconda opinione l'Ahmalide con il seguente ragionamento attenzione l'energia divina che Dio emana è più manifesta e rivelata nei mondi spirituali elevati come il Ghaned allora Dio dov'è di più qui o nei cieli Vittorio per esempio Dio dov'è di più qui o nei cieli attenzione a quello che dici ma spero qui perché perché siamo siamo qui per fare le misrot e per ok ha un senso quello che dici ma Dio è presente qui giù e lì su in modo identico non c'è uno spazio dove Dio non esista però c'è un'altra differenza dove si rivela di più Dio la rivelazione di Dio è maggiormente nei cieli superiori non la presenza la presenza è uguale dappertutto la rivelazione è superiore oggi nei cieli superiori perché perché è il vero habitat è il vero posto di Hashem perciò l'energia che Dio emana è più manifesta e rivelata nei mondi spirituali elevati come il Ghaneden tuttavia ci si riferisce a Dio come nascosto da tutti coloro che sono nascosti poiché la sua essenza trascende ugualmente le creazioni più elevate e quelle più basse sono tutti dinanzi a lui sono tutti nulla dinanzi a lui perciò Dio davanti a lui il mondo intero o una formica è il medesimo davanti a lui tutto è nullo non c'è differenza da una formica e il mondo intero con tutte le galassie perché davanti a lui noi siamo tutti zero ciò nonostante perciò la divinità la si palpa la si sente di più nei mondi superiori la presenza di Dio è uguale in tutte le parti del mondo però diciamo che Dio è nascosto e che tutto è nullo davanti a lui ciò nonostante durante l'era messianica la vera essenza di Dio verrà rivelata in questo mondo fisico cioè anche non soltanto nei mondi spirituali ma si parla dell'inonibilazione qui giù da noi che i nostri occhi percepiscono a causa della sua onnipotenza egli può essere rivelato o nascosto a piacere oggi Dio si nasconde per i suoi motivi ma in un attimo Dio si può rivelare si può far vedere perciò è a suo piacimento dove e quando farsi vedere oggi si fa vedere soltanto nei cieli superiori un domani si farà vedere su e giù ed egli sceglie di rivelare se stesso proprio nel mondo in cui il suo popolo affaticato e sacrificato se stesso per migliaia di anni per creare una dimora per Hashem noi tutto il concetto che noi stiamo qui e stiamo lavorando e sudando perché cosa le mitzvot che noi facciamo la Torah che facciamo la Tzedakah che facciamo a cosa serve a creare qui giù in questo mondo terrestre che la sua natura è opposta alla divinità opposta all'unicità di un Dio noi cosa siamo siamo gli emissari di Dio di portare parola di Dio luce di Dio in questo mondo terrestre dove Dio è sconosciuto e non voluto Dio si ritrae Dio si nasconde da questo mondo fisico e chiede vi do la Torah che è uno strumento fortissimo voglio che voi portate non voglio impormi nel mondo voglio che voi mi fatti conoscere al mondo cioè fate una dimora una casa per me in questo mondo dove ripeto oggi la natura del mondo è contro Dio la natura del mondo dovrà diventare di amare Dio di accettare di conoscere Dio ok e questo è il nostro lavoro perciò qua dice quando il nostro lavoro di Am Israel sarà finito perciò saremo riusciti a portare la conoscenza di Dio in questo mondo e l'amore verso di Dio e seguire le sue Mitzvot e allora questo lavoro sarà finito perciò Dio sceglierà di portare la sua rivelazione anche qui giù in questo mondo dove noi abbiamo studato tramite le lezioni tramite lo studio tramite le Mitzvot eccetera eccetera allora la ricompensa è finalmente Dio viene siamo riusciti a farlo conoscere anche al mondo che è in contrasto con le Mitzvot perciò la natura di questo mondo perciò quando una persona fa una Mitzvah sta facendo qualcosa di non naturale la natura del mondo è di non fare le Mitzvot di non di conoscere Dio questa è la natura come Dio l'ha creata il nostro compito cos'è? di togliere tutti questi veli e di far conoscere che la luce ti riesce e possa venire anche giù in questo mondo che tutti vogliano rincorrere Dio amarlo e seguirlo eccetera questo è Mashiach ma per tutti si intende gli ebrei o tutti tutti perché gli ebrei biondi con gli occhi azzurri gli ebrei se faraditi non li vogliamo oh beh ma tanto io sono convertita non sono niente quindi non c'è problema allora lei sicuramente c'è scusa è cascato male e no 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 perché volevo dire il mondo non ebraico non so neanche che cos'è una mitzvah e come siete facetti dove li mettiamo siete facetti di Noè e la loro Torah questa lo so ma non è vero questo perché io le posso assicurare che quando non ero ebrea ci insegnavano i sette leggi questo è nato il problema questo è nato il problema e quindi infatti i precetti di Noè partono sono gli ebrei che dicono che i non ebrei devono rispettare i sette precetti di Noè ma i non ebrei non lo sanno nel senso che nessuno cioè a catechismo non ti dicono i sette precetti di Noè non esiste quando Noè dopo che Noè ha creato il mondo lui non ha ricevuto dieci comandamenti lui ha ricevuto ha ricevuto sette precetti che lui ha dovuto insegnare ai figli però il cristianesimo riconosce la Bibbia la Bibbia è un testo la Bibbia come antico un testamento quindi la Torah è un testo anche per i cristiani gli manderò un whatsapp al Papa e gli dirò senti guarda metti i sette precetti di Noè eh sì mi sembra giusto perché non comunque non è che voglio dire però io ho una collega di religione che tra l'altro è anche laureata in teologia preparatissima ma lei sapeva ne sapeva anche dell'esistenza dei sette precetti inoachidi esatto non è preparatissima no per niente no perché non è un concetto cristiano perché i cristiani insegnano i dieci comandamenti forse per quello che non sta arrivando mancano i sette precetti di Noè esatto tutti i cristiani che state ascoltando adesso per favore fate i sette precetti di Noè eh sì studiateli e sgridate e sgridate i vostri preti e i vostri catechisti infatti il Rebbe ha chiesto anni e anni fa ha lanciato una campagna di insegnare ai gentili e di insegnare e di incitarli a fare a mantenere a rispettare i sette precetti di Noè che questo anche è aiuta per la regola di Moschia ovvio ognuno deve lavorare visto che Moschia arriva per tutta l'umanità tutta l'umanità deve fare un qualcosa per ricevere questa rivelazione ognuno riceve qualcosa in base a quello che fa allora 21 e 40 abbiamo già sforato di 10 minuti però io avrei c'è ancora un ultimo tipo di un paio di pagine lo volete fare o possono volerci altro che si va bene ok benissimo che sa di Kim che abbiamo qua wow wow ma Chef non arriva stasera no va bene al massimo domani mattina ok il riscaldamento globale significa che siamo prossimi alla fine bella questa che fantasia che hanno questi ebrei ok domanda è possibile che il riscaldamento globale sia un segno che il Mashiach sta per arrivare ha un suo senso la domanda fa ridere ma ha senso perché dice ho studiato che la Torah predice che in futuro la copertura del sole verrà tolta e le persone malvagie si scioglieranno nel caldo intenso forse si riferisce al buco nell'ozono è possibile che tutto ciò sia vero ed è sicuro che i malvagi verranno distrutti ok risposta la versione ebraica della fine dei tempi perché mi sembra che mi sembra che dai cristiani si chiami la fine dei tempi se non sbaglio invece dell'ebraismo è proprio tutto l'inizio quando dice Mashiach non è la fine dei tempi ma è l'inizio di tutto il vero inizio è quello comunque la versione ebraica della fine dei tempi è molto diversa da quelle che predicano visioni apocalittiche non dovrà essere violento la volta di Mashiach e non ci sarà più bisogno di guerre perfino la punizione dei malvagi può accadere in modo pacifico attenzione una piccola quando quando scrive malvagi non si intende gente cattiva o malvagi nel senso italiano malvagi lui intende un rashah e come tante volte abbiamo spiegato un rashah può essere la persona più buona più mite al mondo semplicemente che rinnega la Torah non fa le mitzvot questo è chiamato un rashah la parola malvagi la traduzione secondo me è un po' esagerata della parola rashah perché malvagio quando tu dici malvagio intendi una persona che è cattiva che uccide che ruba è un malvagio malvagio qui intende un rashah ovvero uno che non che non fa le mitzvot perciò anche la punizione dei rashah può accadere in modo pacifico non per forza deve essere fuoco quei fiamme l'insegnamento talmudico che hai menzionato tu che stai chiedendo la mette in questo modo due punti virgolette nel futuro non ci sarà bisogno del purgatorio Dio toglierà il sole dalla sua guaina perché oggi il sole se non fosse se non avesse una guaina brucerebbe il mondo perciò il Talmud ci spiega che il sole ha una forma di astuccio nartek in ebraico che copre la violenza del sole la forza del sole per non bruciare la terra anche se la distanza non lo permetterebbe e comunque c'è una allora dice in futuro il Talmud dice non ci sarà più bisogno del purgatorio cioè dell'inferno perché? perché Dio toglierà il sole dalla sua guaina perciò ci sarà calore i giusti i tzaddikin guariranno da questo sole e invece i reshahin i malvagi ne saranno puniti questo scrive il Talmud di Nedarim 8b allora una volta hanno chiesto al Bal Shem Tov il fondatore del chassidismo cos'è il inferno e lui ha risposto in un modo molto chassidico è una risposta molto bella noi quando parliamo dell'inferno pensiamo appunto a fuoco e fiamme eccetera lui è detto così l'inferno è quando una persona dopo 120 anni arriva muore e arriva nel mondo della verità passa nel mondo della bugia e lì è il mondo della verità lui arriva di là e vede la propria vita retroattiva guarda tutto il film della sua vita e dice oh qua potevo fare una mitzvah non l'ho fatta qua potevo stare zitto ho aperto la bocca qua potevo aiutare e non l'ho fatto vede tutto quello che poteva e non poteva e non doveva fare dice quello è il è il come si dice l'inferno quello è l'inferno quando io vedo la mia vita dopo la morte e vedo la mia vita e vedo quanti sbagli ho fatto e quanti sbagli potevo evitare quante buone cose non ho fatto che potevo fare quello è l'inferno nel senso mi brucia l'idea di come potevo condurre diversamente la mia vita questo è l'inferno cassidico che lo trovo stupendo non vi vedo convinti sì un po' lo trovo stupendo perché vuol dire che lascia stare fuoco e fiamme l'inferno è aia peccato che non allora sentendo questa frase non abbiamo più inferno se faremo quello che bisogna fare non c'è inferno ora la guaina del sole può essere l'atmosfera la fotosfera l'ozono tutti e tre oppure tutt'altro questa guaina no? in questa frase il Talmud ci sta parlando di un cambiamento nel clima spirituale non tanto materiale secondo gli insegnamenti perciò quando dice che è i giusti che il sole verrà tolto e questi guariscoli e quelli si sciolgono è una cosa spirituale che il re chi non sta facendo in qualche modo il cambiamento di farà parte non lo vogliamo uccidere e bruciare nessuno non lo vogliamo tutti vivi allora capite? perciò si tratta di un cambiamento nel clima spirituale secondo gli insegnamenti della Torah il sole rappresenta la luce di Dio non fa la luce di Dio uccidere una persona dai salmi 84 12 in questo mondo attuale questa luce è nascosta e così perciò c'è un astuzio perché la luce di Dio è troppo forte per il nostro mondo è così come il sole ha una guaina che lo copre e filtra la sua luce così pure le leggi della natura coprono la luce di Dio in questo mondo cioè Dio non è a filtri adesso e infatti la mano divina è spesso difficile da percepire e la vita può a volte sembrare casuale e senza senso perché perché Dio è celato Dio è lì se lo cerchi ma lo puoi anche facilmente sfuggire ed il mondo può sembrare un posto molto buio tuttavia un giorno presto capiremo il senso quando Mashiach verrà Dio si rivelerà la sua luce brillerà senza filtri il velo verrà alzato e vedremo la sua mano che guida il mondo tutto il tempo nulla era casuale nulla è avvenuto per sbaglio e tutto fa parte del suo disegno oggi le cose che ci fanno male che ci scioccano che ci quello che vuoi tutte cose che noi non capiamo oggi quando avremo a Sceach vedremo che nulla è stato casuale nulla è avvenuto per sbaglio tutto fa parte del suo disegno quello che oggi non capiamo lo capiremo un giorno questa consapevolezza questa consapevolezza è quello che fa guarire è la medicina per i giusti poiché essi sapevano che Dio era presente già da prima che Mashiach arriva ed il fatto che non era visibile era per loro fonte di dolore di che cosa sono malati i tzaddikini del fatto che loro percepiscono Dio ma non riescono a vederlo allora quando dice che Mashiach arriverà e porterà guarigione ai tzaddikini che guarigione è della sofferenza che loro non riuscivano a vedere Dio per chi non interessa per chi non capisce Dio non capisce l'importanza Dio loro che capiscono l'importanza Dio e non riescono a vederlo allora per loro questo solo rincuorerà e coprirà i loro dolori essi avranno piacere nel vedere la realizzazione di ciò per cui hanno dedicato le loro vite i tzaddikini più di tutti noi hanno dedicato la loro vita per l'evento di Mashiach perciò avranno il piacere di vedere la realizzazione finalmente di tutto ciò ovvero sentire la loro vicinanza a Dio e nel vedere la bontà prevalere tuttavia per i malvagi per il Rashaim questo sarà una punizione cosa vuol dire che sarà una punizione infatti quando la verità verrà rivelata quando il gioco comincia essi sentiranno il dolore dell'aver sprecato le loro vite su cose vuote e banali come dicevo prima non vi ricordate che avevamo nostalgia di oggi perciò Dio non brucia nessuno nella Torah Dio non brucia nessuno quando dice che i Rashaim vengono sciolti dalla luce del sole bla 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 intende questo che ripetiamo i tzaddikini verranno guariti dalla sofferenza di non aver potuto vedere Dio come volevano già vederlo prima per la loro vicinanza a Dio i malvagi la punizione cosa sarà che loro quando la verità verrà rivelata sentiranno il dolore di aver sprecato le loro vite su cose vuote e banali la punizione più grande è scoprire di aver sbagliato di aver creato una vita basata su cose false e di aver perso l'opportunità di fare tanto bene questo è quello che è la punizione di Rasha tutto lì la sofferenza del vedere cosa avrebbero potuto fare ebbene sta finendo la luce brillerà la domanda è se stai bloccando la luce o se stai aiutando a svelarla la tua è una vita con un valore duraturo o sei occupato con le frivolezze che un giorno si scioglierà il futuro è brillante partecipa anche tu a renderlo tale se no perché perché dico perché mi ho in mente questa propria detta perché la domanda è stai bloccando la luce o se stai aiutando a svelarla un giorno un uno torna siamo nei vecchi stets di una volta il marito torna a casa dal tempio pallido spaventato il cuore della moglie non sai non sai oggi il rav al tempio ha detto che Mashiach sta per arrivare e lei ha detto Bianco non ti preoccupare abbiamo sopravvissuto ai pogromi abbiamo sopravvissuto all'oppressione sopravvivremo anche alla bimota di Mashiach cosa vuol dire fa ridere ma fa piangere perché c'è ancora purtroppo troppa convinzione che Mashiach viene a giudicare che Mashiach viene a punire viene a bruciare viene a far niente di tutto ciò Mashiach viene soltanto a a portare il mondo lì dove Dio vuole che il mondo arrivi veramente tutte le nostre azioni ma c'è viene a completare le nostre azioni non viene a giudicare il ram lo scrive chiaro tondo non viene né a giudicare né a punire né a puntare il dito semplicemente viene a portare una consapevolezza nuova di Dio nel mondo tutto lì cioè non bisogna avere paura di Mashiach al contrario bisogna auspicare al più presto perché il vero scopo finale della creazione del mondo è quella di arrivare alla rivelazione di Mashiach Amen ai giorni nostri Amen qualcuno vuole dire qualcosa? Amen Io volevo ricordare una lezione di Ravroda a Milano parliamo di 50 anni fa io avevo 18 anni e disse che per anticipare la venuta di Mashiach senza aspettare l'anno sedina sarebbe bastato se tutti gli ebrei avessero rispettato lo Shabbat per due Shabbat consecutivi e questo mi è sempre rimasto impresso nella memoria volevo solo portare questo aneddoto bello bello grazie 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 dai mettiamoci d'accordo prossimo Shabbat se Ramban dice che Gan Eden è temporaneo e poi si tornerà alla Gashmiut cioè alla corporità no Ramban e io abiterò tra di voi fatemi un tempo e abiterò tra di voi insomma allora viene il dubbio di dire ma anche l'inferno sarà un luogo temporaneo punto di domanda perché se Gan Eden è un luogo temporaneo anche l'inferno una volta che uno si renderà conto ah cosa avrei potuto fare di bene ah peccato che non l'ho fatto quanto sbagliato eccetera non c'è più bisogno dell'inferno non c'è più l'inferno non c'è più l'inferno cioè quindi anche se è una temporaneità e se tornerà tutti da forza cioè tutti puliti tutti purificati insomma quello che oggi può essere chiamato inferno che le anime passano per purificarsi ci sono diversi tipi di immondi dopo la morte che l'anima deve passare diversi diciamo disagi vari disagi spirituali sono semplicemente dei modi per purificare l'anima dei peccati fatti in questo corpo fisico nel mondo allora l'anima delle macchie allora deve passare sono diverse cose che il Tania racconta la Kabbalah racconta diversi stadi di sofferenza spirituale che l'anima viene pulita purificata quando le vorrò massire tutto questo c'è più bisogno perché la teshuva sarà secco l'inferno se c'è vuoto se tutti fanno teshuva sarà vuoto se tutti lo facciamo sarà vuoto sarà vuoto sarà vuoto aspetta david david tu sei troppo serio fammi dire una barzelletta prima se questo la faccio breve e semplice avete presente ci sono i chassidim di Rabbi Nachman quelli che hanno le peot tante che si hanno le peot quelli di Rabbi Nachman i bresler si dice che loro i loro rebbe ha detto fate crescere le peot perché un giorno dopo 120 anni dopo che ognuno dovrà morire allora se qualcuno finisce per sbaglio in un inferno io vengo e vi aggrappo dalle peote e vi salvo e vi porto nel non penso che sia una barzelletta penso che sia no è vero è vero ok 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 allora la barzelletta è la seguente siamo in inferno e c'è lì un 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 chassid di Bresler di Rabbi Nachman e un chassid del Rebbe un Chabad un Lubavich finiscono all'inferno il primo il chassid di Rabbi Nachman comincia a orare Rebbe Rebbe sono finito in in inferno vieni a salvarmi vieni a salvarmi arriva il Rebbe lo prende per le peot per le ricci e lo salva e lo porta nel paradiso arriva il turno del Lubavich Rebbe Rebbe aiutami sono finito qua non so cosa fate ma sono finito qua aiutami salvo portami di là il Rebbe gli dà un dollaro e dice apri apri un Bet Chabad vai lavorare anche lì bisogna lavorare ma quello che volevo quello che volevo dire è che praticamente lo studio della Torah è come il fuoco e la conoscenza della Torah è fuoco tant'è che quando è morto Acher quando dopo 120 anni era un problema nel 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 Olam Abba perché fuoco non brucia fuoco perché lui è vero che lui ma era uno dei più grandi studiosi di quell'epoca quindi c'è stato un grosso problema per fargli anche pentire di tutte le cose che aveva fatto perché lui le faceva con cognizioni di causa cioè lui sapeva benissimo che fino a quel punto non si poteva andare andava col cavallo lo diceva a Rabbi Meir e Rabbi Meir diceva maestro perché vai a cavallo però fuoco con fuoco quindi questo mi ha fatto venire in mente il fatto il fatto di prima del di togliere la copertura al sole cioè però c'è anche il fuoco della Torah che 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 noi abbiamo in questo momento come succedaneo di quello che sarà avvenire che fuoco noi acquisiamo e il fuoco non verrà ok bello carino ok grazie 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 Iudo vuoi dirci qualcosa solo se vuoi eh solo se vuoi non voglio sempre ripetere le stesse parole che uso sempre quando dico qualcosa per far notare uno scritto dell'India o qualcosa però tutto quello che abbiamo studiato l'ho letto anche dei testi di 3000 anni fa e dicono la stessa cosa una cosa che ha detto verso Hashem è che quando siamo corrotti noi siamo sporchi cioè non abbiamo la voglia di di osservare la nostra fede eccetera e allora Dio ci nasconde invece quando ci nasconde perché non siamo perché non siamo al livello di vederlo noi cioè vuol dire che non siamo puri siamo noi siamo corrotti anche dentro di noi sto parlando di un altro testo però rispecchia perfettamente quello che avete per quello volevo dirlo e l'altra cosa è che quando invece noi ci impegniamo eh di essere più gentili di essere eh più retti eh di osservare i miei spot tutto quanto allora in quel momento si appare perché vede il nostro cuore puro invece prima come siamo oscurati noi non riusciamo a vederlo perciò quello che abbiamo detto stasera è proprio mi ha colpito impeccabile grazie grazie qualcun altro a questo punto devo citare i rabbi di Kotzk no per far condicio sì esatto quando gli hanno chiesto ma ha chiesto dove si trova Dio si trova dappertutto e no Dio si trova dove si lascia entrare Dio si trova dove noi gli permettiamo di entrare sì proprio così è molto profondo sì 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 sì